Si parte, con tante incognite, tanti punti interrogativi, tanti problemi non risolti, ma si parte. La Lega Nazionale di Lettanti conferma date e orari di inizio dei tornei. Insomma, nessun rinvio, nessun ripensamento. Salvo clamorosi sviluppi in extremis, anche in Serie D, il nastro della nuova stagione verrà tagliato domenica, a partire dalle 15, la prima giornata di campionato. E' quanto ha deciso nell'ultime ore il Consiglio di Lega, pubblicati gironi e calendari. 18 i club inseriti nel girone meridionale, equamente diviso tra campane, calabresi e siciliane. 6 formazioni per regione. In Campania, Agropoli, Aversa Normanna, Cavese, Città di Gragnano, Frattese e Sarnese. In Sicilia, Città di Scordia, Siracusa, Due Torri, Leonfortese, Noto e Marsala. In Calabria, Palmese, Reggio Calabria, Rende, Roccella, Vibonese e l'incognita Vigor Lamezia. Esplosivo il primo turno. Pronti via ed è già derby al quadrato. Due, le stra-regionali previste. Rende Vibonese e Roccella Palmese. Esordio in trasferta per la nuova regina in quel di Aversa contro la Normanna. Poi, Cavese, Città di Gragnano, Due Torri, Noto, Leonfortese, Città di Scordia, Sarnese, Agropoli e Marsala, Siracusa. Rinviata per ovvi motivi al prossimo 14 ottobre, la sfida tra Vigor Lamezia e Frattese.